ma si ma si driftiamo possiamo mettere flat health però perché ho paura di invaderli della kindred va bene va bene andiamo a vincere sta partita allora eh ma di che di che allora vediamo un po' vediamo un po' sus no sus no sus mai sus questi ci invadono penso proprio potremmo invadere o noi potremmo invadere potremmo invadere quale side potremmo invadere top side inaspettato vabbè raga ne ha 20 euro gratuitamente per ridere no tipi kindred al stardo ma come mai non siamo non siamo pronti invadere guarda che ho trovato guarda che serpente schifo ho trovato guarda questa biscia maledetta no brava what the fuck are you doing ma sta roba non ha senso rischiamo oh mio dio vogliamo splittare ah oh mio dio è una tragedia glad i glad i ignite ho voruto di non prendere ass volevo castare l'acqua prima che si allontanasse è arrivato tf foggers sono sentito un po' un peso però questa roba è molto importante nice ma cassia non può fare questa faccia non siamo d'accordo tutti quanti ragazzi allora secondo me ah shit what are we not invading ah no layer cleanse che top non ho aspettato il maledetto lo sapeva pure io ho detto il maledetto Grazie a tutti. Ma non vuoi che Kindred Parnia queste parti per il marchio? Mi spiace aver rubato Testa esperienza da TF onestamente E gli starò sul cazzo Però pazienza dai Allora a livello 2 Pensavo a TF flashassi in quando Kindred Era i miei raptor perché Prima la potevo ammazzare ma in realtà era bad as fuck Perché non avevo visto cazzo che avesse il dance Quindi era una cringiata E io ho rubato parecchia esperienza E what else? E poi ho fatto una merdata simile Ora passando Però ora era importante Per prendere l'ulteriore su Kindred Questo qui la pista suona Che stava trollando Non so perché si è suicidato L'aveva pingata non so quante volte Ma già morì a rovin di suona con Kled Non so bro Diciamo non esattamente semplice direi Facendo un esattamente semplice direi Fino Sì L'utilizzo Mi è Mi è Mi è Mi è Andrei a vedere i suoi gole ma anche sono up Lo vorrei prendere Ciao Peppe Non sono up What? Darkhold pack E comunque se non trollano è il game over Guarda un po' il cleddista Guarda la solo bole in due contro uno Guarda che roba Sculato anche Arrivo ok in the head F ha sprecato l'R Un po' è un peccato però Fa niente Però io non sono sicuro sia proprio la giocatissima A parte che è abbastanza telefonata Vabbè cledd è pazzo ma vabbè Comunque sia l'indole per giocare cledd E dai stacce bro Sono veramente disgustoso Sì avversario mamma mia Deve volte solo i più game sono Santi Kells C'era un serpente maledetto Mi ha messo un po' di inquietudine devo dire Però mi ha proprio cagato E non ho cagato lei Sì è game over Game over ovviamente We'll fucking take it Grazie della Grazie della win Non dirò di no Siamo Forse in anticipo per le scream ragazzi Spero il game durasse un po' di più realtà Vedi 15 minuti Mannaggia Questo dovremmo drollare Drollando magari si può drollare un po' E trovare Portare il game late Adesso Anna vince Palle Una dole spell up Ti odio Maledetta Cringered Cringered Va bene va bene E' game poverino Penso sia vittima di una situazione Cresciosa E' agitata la zona E' iniziato a romare A trollare Allora Se giochi Sona Si è già da per me a bannare Se giochi Sona E dopo una morte Trolli Eddio Se deve prendere la schiaffa IRL Con una mazza Dog is godlike Che cazzo vuole sta game Ma te li fai Fatti i tuoi Scema Cambiamo 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 Legendario Spunked Spunked Ci vogliamo Prendere un draghigno Questa può fare R flash Quello fa sicuramente Se io Disrespect Criamo e basta Dai che tiriamo e basta Il mio chiede Me lo terrò stretto O forse non me lo terrò stretto Dai che fai R flash Questa zozza Dovrei fare flash Me lo sento Nelle vene Me lo sento Come on Come on Bravo il spirit side Merito un bravo Bresa M'aspetito un attivant Quoi No Questa la R Ci picchia Che dire Che dire Suona Surely Trying Their best Va bene va bene Bene boys Possiamo fare qualcuno più Mentre aspettiamo Cioè prima vado a fare sicuramente Un caffè boys E Proviamo un po' No i void groups Nostro objective Come hanno Attenzione permessi Bastardi Delle volte Penso che il surrender Ci dovrebbe essere Prima Nel quindicesimo Poi So che Tenerebbe male No Però Guarda quei golem di merda Dove se ne vanno Stardi Si permettono Piatola Piatola Da tre Da tre Dai Non ho preso Non cugini Bro Sono lucky Mori Shit Vabbè Però ma Non mi tanchi la torre Ma sei un pezzo Di merda Sei Rakan Bastardo Ho creato Ancarmmi la torre Mi ha venduto così Al mercato Brutto gesto Quale godi Ma veramente È stato Un carino La parte sua Spero muoia Guarda C'è pure il flash up Allora Vediamo se Sorrendano Speriamo In teoria Dorebbero Però Magari sono pazzi Capiamo Capiamo Un po' Capiamo Un po' No Ha un item Ma stiamo scherziamo Una X-Tech protobelti mi one tap con la combo Non lo so non mi sembra corretto Secondo che è corretto Poi accetto feedback Secondo me non ha senso Non credo sia legale Dai ragazzi Perché siamo ancora in partita Dai non mi direi che tryhard No questi prego però Ma di shit non hanno surrendato gli avversari Quanto è rotto? Da 1 a 10 3 Ecco quanto è rotto Sylas jungle Quanto è rotto Sylas come champion Da 1 a 10 Un solito 8 La vendetta ragazzi Noi contro cannon Codo Però ma se è faker anche Adesso dormi anche se sei faker Ah Codo finalmente Va bene va bene La metto solamente o free la metto Non mi piace in game Suona 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 Niente suona temo Oddio Oddio Bro is this game usable mi domando Ti prego blida 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 Non abbiamo ancora doppia maschera Fatto che non è enough Ragazzi Posso dire una cosa No non rischiamo di perdere No no Sarebbe assurdo Sarebbe Rischiare di perdere Non credo sia possibile Anche se prendono bounty dal drake Vabbè no dai Abbiamo corchi Cioè anche io sono fidato Ma corchi Penso di rimanato Un signore Ti cancella l'account Direttamente E' stato solo un problema Di greediness qui E abbiamo anche aperto Bottini per free farm Hai visto che Che atto di generosità Da parte nostra Qualcosa non quadra Ogni volta che clicco Su core Che ha due oggetti in più Credo sia sbilanciato Il campione Così annasa Riot Forse not fix Un campione che fa True damage Tutti one shot Sì per dire Come consiglio Non necessariamente A seguire Possiamo fare Quello che volete Ovviamente E questo è lo stato In cui ci piace Corchi Allora Lima Oscar Lima Guarda quel lupo È infame Come cazzo si permette Spostumato in un lupo Però sta roba È una merda Vabbè Incredibile Lo slip del fragolo No Quello si è preso Il pevrono E si è salvato Mortacci sua Ti ho preso Scemo Brucia 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 Crepa Pensava Pensava Di potermi fregare così Il ragazzo Buff a Corchi Ho detto questo Conoscendo la Riot Che buff a Draven Guarda Potremmo anche Aspettarci un buff Su Corchi No perché Non prende danno Abbiamo tre Inibitors Facciamo un attimo Il Baron al volo Giusto per essere sicuri Di non draware Potrebbe essere Una splendida idea Potrebbe essere No 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 Brutto gesto Ma Zompettiamo Liglia mia No Però mi la passiva Sei proprio uno stronzo Sei Su quello ci sta Con la passiva Maiale Per bilanciare Draven Dopo il futuro buff Con un buff a Corchi Grazie per l'istante Grazie Franci Grazie a tutti Ben tornato E del supporto Un chat A proposito Se volete abbonarvi E supportare la live Io lo apprezzerei Con Prime Senza Prime Anche i Pollux Aiutano Dai nemmeno anche Il resto che mi chiede Purtroppo per loro Kennen Non ha il flash Per fare il flash Engage Quindi non hanno Nessunissima chance Di ucciderci Kennen Flash Magari Sona Anche Flash Avevano una piccola chance Avevano gli avversari Di morire Meglio però Di Quanto potrebbero fare così Senza il flash Ehi golden Qual di una rotolante Tempo No GG 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 Vabbè partita Open dopo due minuti Però è durata un po' di più Del previsto Forse l'hanno fatto Perché sapevano Che non faceva tempo Ma si è bagata la web No Brutto gesto la webcam Bro ce la puoi fare Dai What Aspetta che la Riaccendo Un attimo solo Chieriamo Corky Rakan Anche Rakan comunque Però Corky Ha pure chiamato l'inbay Dai ci piace Facciamo lui Facciamo lui Ascolta questa Non l'ho ancora ascoltata Vediamo com'è Dai Repartiamo Stasona che era Disgustingly Troll Si mette pure a flammare Va bene Va bene Oh grazie Claire Bene bene bene